Salve a tutti, io sono Killilost e quest'oggi farò questo piccolo video sulla nuova patch uscita, ovvero la beta 1.4 Potete facilmente aggiornare la vostra versione precedente facendo force update nella schermata del vostro nick dell'account Iniziamo nel vedere i nuovi aggiornamenti Inizio col dire che questa patch è stata rilasciata ma non è completa Potete facilmente trovare su internet come quando verrà scaricata la versione completa Allora, iniziamo, inizio col dire che se ricordate nei video precedenti la mia casa si trovava qui Questo è il mondo, quello in cui faccio i video tutorial Niente, iniziamo La prima introduzione, davvero sorprendente, sono appunto questi lupi Che, niente, questi lupi si possono trovare facilmente vicino a boschi E si trovano allo stato brado Ma, ehm, premendo col tasto destro Sui lupi con degli ossi Si possono ammaestrare Ora, per esempio, vedete, cammina E mi seguirà ovunque Vedete Invece, premendoci un'altra volta Si siede Si siede Cioè, sta cuccia Niente, questa è la mia casa L'ho spostata qui Qui ci sono altri miei due primi Non so che nome dargi Poi può darsi che mi verrà in mente Come vedete l'ho allargato E, niente, questo dovrebbe essere il piano superiore Allora, altre Una, un nuovo Con questa patch che è stata rilasciata Dovrebbe essere Cioè, dovrebbe farne parte Anche Il punto di respan Infatti, qui ho una bussola Che però non mi indica il punto Cioè, mi indica il punto di respan originale Invece, con questa patch Il punto di respan dovrebbe trasportarsi nel letto Quindi, dormendo Cioè, una volta che moriamo Ci Ritorniamo Dov'è il nostro letto Ovvero Nella mia casa E Ah, un altro Un altro Un altro aggiornamento, diciamo Rilasciato con questa patch È che l'inventario non si apre più col tasto I Ma col tasto E Poi Ecco, sto imbrogliando con le lettere Si possono trovare Questa patch Diversi Hanno migliore Cioè, hanno aumentato il numero di lana Per esempio, qui c'è la lana normale La Grigio chiaro Il nero E il grigio scuro E si possono trovare anche rosa E io qui ho avuto culo, credo Ma non credo Eh, ho trovato la lana marrone Eh, si ho trovato la lana marrone Eh, sempre Porco Dio E niente Questa è la patch per ora Eh, non so più Cosa ci sia da dire Eh Vedete, la bussola mi dica il punto di respawn originale Questa non è una cosa positiva Perché significa che la patch non è stata completata del tutto Infatti, dicono che Eh, sarà completata il 3 aprile Sarà rilasciata la versione completa Qui sta il mio fagnolino Il mio lupo E una mucca Vabbè E niente Questa è la patch E... Credo di aver detto tutto E niente Ci vediamo Nel prossimo video tutorial Da Killio Grazie a tutto Ciao ciao